Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube e oggi vi spiego nuovamente come ottenere pacchetti e premi gratuiti per EA Sports FC 25. Potete farlo già ora, il primo passo è, se avete smesso di giocare, tornare a giocare a FC 24 perché completando la stagione appena rilasciata è possibile ottenere un pacchetto di 5 giocatori 84+, non scambiabili, che riceveremo direttamente in FC 25. Ne approfitto per ricordarvi, come sempre www.fcmaglia.com, affidabile, sicuro, prodotti molto validi, prezzi imbattibili e con il coupon Lucio avete il 10% di sconto e ogni 59€ di spesa una maglia omaggio da inserire nelle note del carrello, quindi andate nel link in descrizione. È inoltre iniziato il pre-season con appunto gli obiettivi stagionali nuovi, venerdì terminerà quasi certamente il footies con l'inizio appunto dell'evento pre-season, quindi nuovamente card vecchia nei pack, tanti obiettivi settimanali, stagionali, SBC, che ci permetteranno di ottenere piccoli premi avvicinandoci a FC 25. Quindi magari settimana prossima, faccio per dire, ci sarà la possibilità di ottenere un pacchetto premium oro o un pacchetto oro generico. La settimana dopo alcuni stili intesa, non scambiabili sempre obiettivi. Poi magari carte, pacchetti 81+, 82+, 83+, e così è il pre-season. Quindi giocando la stagione ultima di FC 24 è possibile ottenere premi per FC 25. Questi premi verranno riscattati non prima del Day 1, non della Ultimate Edition, bensì della Standard. Quindi tra il 27 di settembre e i primi di ottobre otterremo tutti questi premi. Fatemi sapere nei commenti se ancora giocate a foot.